Dammi maghi, dammi maghi, io ho fatto il mazzo anti maghi, dammeli maghi, dammi maghi, gimme, 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 a man after midnight Sta accordando con Sabacco veloceo che strappi, no? Prossimo ospite è Leonardo Bru Ehm, sì, qui Yuma Vabbè è la prima dei bimbi mi sa Mi sembra una situazione da prima dei bimbi a me Vabbè dai Non dovevi premere quel tasto Il tasto Meta Game Challenge non era per te mi sa Vabbè questo è per vedere se gira È per vedere se gira Non pensate alle remake di Final Fantasy IX? Non voi ne aveva bisogno Good game Vedete che perché questa persona è qua? Perché non ha scritto le mie guide Saprebbe che non doveva venire in challenge Con i suoi 2000 gold da giocatore iniziale Doveva andare a farmare Ecco piuttosto avrei remakeato il 6 Che peraltro ha una trama Che permette effettivamente il remake Cioè il 6 ha una struttura di gioco Che secondo me puoi benissimo fare una figata incredibile Che lo fai A mappe La prima metà E open world la seconda Bello Puoi fare una figata incredibile Il 6 La trama del 6 rifatta oggi sarebbe incredibile Immaginatevi area di mezzo carattere L'opera fatta con i mezzi di oggi Wow Sarebbe Fuori di testa Sarebbe bellissimo il 6 Il 6 rifatto Poi questo ovviamente perché la gente non scrive più Quindi dopo è scontato Che non faranno più Final Fantasy nuovi belli Quindi possiamo soltanto basarci sui remake dei vecchi No ho un po' il mazzo base Lupi mannare ragazzi Già Chiederei riuscito di dirigere anche il 17 Sai non puoi sputtanare il 17 Non ha una storia nuova Bina 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 Ciao caro Come stai? Farmasti? Anche tu Farmasti il metagamo L'hai fatto il metagamo Bina Oh Bina È sul podio L'altro giorno ho dato uno sguardo così per caso Perché stavo compilando il mio Referenze Guardate l'ultimi L'ultimi 14 giorni di Magic Bina sul podio Più forte del mondo Grande Grande Il binone Si attacca a god Grande binonzi Che fa? Niente Bravo bravo Sono contento di vedere La gente non si è Non si è resa agli scalini iniziali Perché comunque l'ammonisi di Magic si supporta a vicenda Quindi In realtà Chiunque Agisce con costanza Con capabilità Con agilità E con talento ovviamente Può fare bene La community di Magic Non è un mondo chiuso Come il resto di Twitch In realtà Sto guardando il video E sono venuto per quello vero Se passi a Como Vuoi un caffè Passo a Como Volentieri Evviva Bina Che non ha visto il gioco a Pauper I poveri Che Io volevo il dissing E un giorno capirete Che Non c'è Bina merda Puzzi Ti puzza Il cazzo Bina Matti C'è anche Cruci Come fai a saperlo Ne ho usufruito No Ci siete al Play Modena Che tra un po' Se tutto va in porto Ufficializzo Sto Facendo le cose Interne Dovrebbe essere Tranquillamente ufficiale Però Prima di dire Prima di dire È ufficiale Ok È a maggio Sarà Cioè Vorrei fare Allora Al 99,6% Si fa Che è il Meet and Greet Raduno Community Della Gleba Al Play Modena Con tutto L'intero Cast Dell'Ombra Della Scientilla Tutti Tutti Potete Leccare Nino Ragazzi No Magari no Se no vi denuncia Però Insomma L'idea è qui No Flynn non c'è Sium Aspettando il server Come sempre Portate da mangiare Quella è la base La base di ogni mio Meet and Greet Raduno È portate del cibo Siamo 1-0 Aspetta Devo cambiare I cazzi Il sess Gli ho fatto il sass Un tupperware di carbonara Minchia Mi seguo Carbonara è buona Anche ghiaccio Il mio pipì È molto un pipì Senza pipì Come fai Il mio pipì È assai saporito Sa proprio Di smagmà Il mio pipì È estremamente Un pipì gonfio Di pipì Novis inspector Non ti ci facevo Da queste parti Sir novice inspector In realtà In realtà Yagmoth non è così Difficile Da giocare Non è facile Ma non è nemmeno Così pesce Così Complicato Mi sa che è convocco Con delle strane Cavern of souls Che non capisco Dai Beh ragazzi Probabilmente Il raduno Si fa Alla Tana dell'elfo Quindi Fate due Più due Del museo toscano Ma boi Non si sente Sono di trieste Che verrà rinominato Allo scolo Per l'occasione Esatto Fake Esattamente Già un bombarda Ma bella Ma bella Vestartor Faccio un sacco Zambombarda Mi stai dicendo Che Caritas Quindi nega Totalmente Quel mazzo Bello Raduno Cosa dove quando Al play Modena A maggio Cercate play Modena Per tutte le informazioni Sulle date Poi vi dirò La data effettivamente Definitiva Data e ora Ve lo dirò per certo Però di base Il play Modena Cosa giochi in Modern? Nulla perché non gioco Modern Ma se giocassi Giocherei E zo Ma sì Ma sacrificati la roba Dai Oh quattro pezzi Lo spacchi no? Quattro pezzi Mangi Oh no Infatti non sta male Per niente Pensate che inizio a lavorare In zona duomo Ad aprile Quindi se vuoi Anche tu Offrì un caffè A me Non lo so Troppe cose Per le gioco Per le gioco Cose Grazie Giocherei per i 33 Madonna Non salti un mese Sì sì Lo so che morirò Per questa cosa Grazie per lo zombie Ma poi farò anche un mini raduno interno Milano Di quelli della zona milanese Per forza E che il grande vero raduno della gleba È stato spostato da Milano al Play Modena Praticamente Poi comunque a Milano Arriverà il giorno e dirò Oh ragazzi Quel giorno lì Ci becchiamo Beviamo qualcosa Bella lì E poi comunque Raduno in zona milanese Ragazzi Il lab Quando facciamo i pre Al pre Dovete venire tutti Se non riuscite a venire al pre Comunque siamo lì Venite a vederci Trovarci A salutarci Tipo Gio che L'altra volta è venuto E non ha giocato Perché era pieno il pre-release Però è venuto Ci ha portato i biscotti Si è chiacchierato Si è fatto la foto Cioè è bello Bello Sta per dare un'intera Ah no Non token È vero No Senza toccare il pipo Il mio prepuzio Esplode Di prepuzzi Con i prepuzzi Nel pulso Di prepuzio Un po' ho trovato L'auto Sì Quei token Esatto Però almeno Un altro zombie Me lo deve dare Alcuno sa Quando mettono fallout Ma espansione di magic Qui non ci viene Qui ci viene A regola ci viene Assassin's Creed Perché è un vero set Fallout è un commander set Quindi non è Non ci arrivano su 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 arena Mi veniva Scusate Allora Io posso Fare questo Spare Quando l'espansione di magic sulla bibbia Bello 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 Gesù Plainswalker Adamo The first man Bello Elohim I dimenticati Bello Giuda Costa 30 E tipo Uno rosso E poi c'è tipo Un milione di modi Per abbassarne il costo Bellissimo Ragazzi Lucifero Lo fai doppia faccia Da angelo E da diavolo Sì I posti ci sono Cioè Fai Sodoma Gomorra Orto degli olivi Che c'è Ma ne Le terre ce n'è un botto Boh Si fanno i fan made Il set della bibbia Bellissimo La terra promessa Per me Per il set Di final fantasy Non per il set Della bibbia C'è solo una terra promessa Per me Quella dove ci porteranno Le antiche Proprio si può fare Tipo Di cui mazzo sarebbe Questo Midrage E poi Cioè Personaggi di avvenimento Della bibbia Ce n'è talmente tanti E effettivamente puoi fare Un intero set Tutto riferimenti Le istantanee Le secondarie Sono tutte cose successe Tipo le piaghe Prima piaga Si andava a piaga Terza piaga Può distruggere il mercato E c'è Gesù Incazzato Come una biscia Che distrugge Le bancarelle Del mercato Di Sodoma Può spaccare Te fatti Processo di pilato Choose one E poi ci sono le opzioni Sono Bar Joseph E Parabà Bello Coach Non è che se le fanno Le spell Di Final Fantasy Potenziabili Che è Se non mettono Kicker A Fire Crio Cioè A me non mi fanno Un cazzo di nomi nuovi Ignis Crio Gesù Cane Per me sono Fire Thunder Blizzard E tutto il resto Se non le mettono A potenziamento E ci scrivono in corsivo Blizzaga Blizzara E tutto il resto Mi incazzo Deve esserci A me non mi fai niente Le hanno riadattate Ignis Chi poi ha senso È latino Ok ci sta Però Me ignis Sono Fire Fire E Firaga Thunder Tundara E Tundaga Nemmeno Tandara E Tandaga Thunder Tundara E Tundaga Blizzara Blizzara E Blizzaga Flare E ultima Antima Sì vabbè Antima C'è un dubbio Sul come si può pronunciare Questa dice Antima Flare Mega flare Gigaflare Certo Ovviamente Ardenzo Qual è Grazie Edo per 18 Sicuramente posso fare I pitini Del goblin bombardment Crucius fa schifo Però è meglio Crucius di Bloodgast Forse Almeno uno Sancta Anche Sancta Si dice Sancta Poi altre Mispronunziation Di Final Fantasy Ah Ifrit Ah per me sono Ifrit Non Ifrid O Ifre O Efrit O Ifrit Come ho sentito dire Della gente O Ifrit Ifrit Shiva 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 non c'è dubbi Ragio Tutto a posto Uova fritte Ardenzo E Flare Nella rimastere Di Final Fantasy 3 e 5 Devono morire Devono scoppiare Quelli hanno fatto Una cosa del genere No scherzo Gli deve morire L'avatar Di meta Del metaverso Ah no Un raid denunciabile Anche quello È vero E niente Gli deve morire Il personaggio Su GTA Ramù Sì Ramù è colpa Della localizzazione Del 9 Ma io l'ho abbracciato Completamente Anche un gazzetto Lui Eh Gidan e Zidane Eh per me è Gidan Ci sono cresciuto Non ci faccio A tornare indietro Per me sarà sempre Gidan Perché Mi fai un cazzo Che in originale Zidane L'hanno inviato In Italia Perché Se no Si pensava Al calciatore Gida Ah sì Certo No Che ovvio Bello Mi hanno depescato All'imagine Ciao Pucciato Ah Come lo pronunciavate L'ultimo eone Di Eiko Non era Gianni Ma Dane Ma Dane Ma Dane Come si Come si scrive Non Madin O Medin Come ho sentito dire Da dei pazzi Scriteriati Come si scrive Ma Dane Giusto Solo io Lo sto sbagliando Ah yeah Questo Io c'ho Prepuzio Dentro I casi Dentro I prepuzi I rovino il mastering Cosa li spendo Negli stili Dai 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 Fuuuuck Made in Ah made in Che schifo Che schifo Poi In realtà Mi sto abituando Ormai Da troppo Tempo Perché è Dalvin Children Praticamente Che ormai Lo chiamo Cloud Proprio Mera Cloud Da piccino Io sono Affezionato Al chiamarlo Cloud Però so Che Cloud Ahimè È Cloud Ormai Ormai Lo chiamo Cloud Anch'io Curaudo Si pronuncia Cloud Certo Perché è proprio Nuvola È esattamente Nuvola Belle Ste pescale Vedete Chiaramente Vivo Sono vivo Della recupero Mago Cloud Eh Io allora Lo dicevo Cloud Proprio Ecco se è una cosa Più pronunciata Perché non è più Scito niente In merito Xenogears Xenosaga Che differenza c'è Tra Xenosgears E Xenosaga Scusate Sono due giochi Completamente diversi Vero Non è il seguito Sephiroth Sephiroth Si legge Sephiroth Ma io ho sempre Letto Sephiroth Perché se lo Leggi Sephiroth Sei un pazzo Di merda Cosa vuol dire Come si può Non leggere Sephiroth Non è Sephiroth Sephiroth è la pronuncia americana È Sephiroth È ebraico Non è inglese È Sephiroth Con la T Anche bella soda Sephiroth Eh Hanno voluto Leggerlo Americanizzandolo Il Sephiroth È l'albero Delle Sephirach È È È una cosa Che viene dall'ebraico Non c'entra Assolutamente niente Con Con la pronuncia americana Quindi gli americani Che lo pronunciano Sephiroth È sbagliato Usare le gemme Per gli eventi Per il passo Ci sta Sì 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 No Ovviamente no Chiaramente Non è uscito Il quarto Bella Mike Bravo Primo vano È la carta più forte Di storie Se non sai che ho giocato Uno, due, tre Ed è incredibile È Una delle migliori trilogie Secondo me Paragonabile È il faffè Cazzo Il capitolo 6 di Crisis Core Grande Allora Sono due, quattro, sei, otto, nove Li posso prendere Perché in realtà Questo dopo me ne para di più Considerando che posso fare Calitas Adesso Xenoghear è uscito nel 98 E poi è uscito Xenosaga Sì E poi se non sbaglio È uscito di nuovo Xenoghears No Cos'è? Ah Xenoblade Ora è uscito No Xenoghears E dicevo Xenoblade Un centrancazzo O Xenosaga È che gli piace usare la parola Xeno Alla gente per riattaccarsi A franchise Vecchi Ma non è collegato Un centraniente Non è nemmeno degli stessi sviluppatori Giusto Cioè Xenoblade Chronicles Sì un centrancazzo Non è una merda È bello C'ho maggiorato Ma mi ha aspirato Anzi mi è sempre stato su Glioni Che dicevo Come ti permetti di iniziare con Xeno Tu Che non sei Xenosaga Che non c'hai Cosmos Come ti permetti di chiamarti Xeno Tu che non fai riferimenti a Zaratustra Che giocone Madonna Che caro Che giocone Xenosaga Uno due tre Tutti Comprateli Giovatele E poi incorniciatele Le serie di Tales Sì ho giocato a Tales of Symphony E ce l'ho ancora E ce l'ho ancora Gran gioco Quello Quello Death of Symphony Ce l'ho in condizioni perfette Mi hanno detto Che sta raggiungendo I 200 euro La versione che ho io Not bad No no Io ho Tales of Symphony A pal Perfetto Con ancora gli adesivi Il foglietto degli adesivi Dentro Non c'è una riga Su entrambi i cd È perfetto My heart is numb Has no feeling I bestow A mighty curse Tombi due Bello Ganaton B1 Però Eh Mi sa che abbiamo Winto No Non è È zombie Non è vampiro È vero Sbagliato Lo inizia a gonfiare Un pochino Anche questo Si fa un bel Little Di varatta Non concedere Facciamo Sì È bello Oh no Non lo sta per fare Non lo fa Fa Sokalitas Non lo puoi fare Non lo puoi fare Non muore Sono quattro Perché nel trigger Non muore Nel trigger Devi servirne uno Bravo Che è stato Che è stato un attimo Di Che è stato un attimo Di Di panico Sarebbe stato un bel content Farlo vedere Sium 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 Michia contro aggro Sto mazzo è cheating Veramente Kalitas Grande aggiunta Partito My love E torno di nuovo Un ragazzetto Di 16 anni Che ballava hip hop Nel parcheggio To a symphony What would I do? Sono Pistrello Sono proprio Bele Io sto pesetto Col mio Pistrello Te faccio Pistrello E ti dico le cose Più bello E se tu mi ascolti E non impari Un cazzo della vita Sai Non ho bisogno Di rimi Perché quello che dico È sempre più importante Di fare effettivamente Una metrica Perché io ti insegno A viveri Io ti insegno A viveri Io ti insegno A viveri Perché Quello che dico È più importante Di rime Io ti insegno A viveri Io ti insegno A viveri Grande Pistrello Che è diventato MC Per un momento Beh D'altronde Lui è uno Trino Quadruplo Quintuplo Quindi Non ha bisogno Di Non ha bisogno Di stare Alle leggi Del canto Del rap Dell'hip hop Lui È una divinità Quindi La madre La madre Oh 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 I Uncussed Join my crusade Vengeance 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 C'è un problema C'è un piccolo problema C'è una dicitura specifica sul Vain Ripper Eh sì Non puoi No Tipo ti mangi la roba E muori No non è word È il fatto che dice Ogni volta che muore una creatura Io prendo due punti vita E lui si prende due danni E se si sacrifica la roba Muore Piccolo problema Piccolo problema Ah Yeah Oh yeah All right Oh yeah All right All right Oh yeah Oh abbiamo il vince contro Yagmoth Viene farlo subito Metap economico Se hai la possibilità Fai subito il definitivo Aggiungo lo score A quanto siamo? A due Vero Queste cose da streamer Che non mi entrano Tipo ricordarmi Che ora non funziona più Telegram E quindi devo fare a mano La cosa del Twitch monitor Dio madonna Bimbi mi aiutate Su sta cosa Impazzisco Telegram Non mi Telegram non mi manda più le notifiche Ho provato a disinstallarlo E reinstallarlo No A parte non fissa automaticamente il messaggio Lo deve fare a mano Una persona sempre Se lo vuoi fare tu fake Sei admin E non mi funzionano le notifiche di Telegram Devo aprirlo a mano Buonasera ho visto il video di oggi Il finale è degno di qualche shonen Decisamente Sì Um Spero tu sia il mille combo di Crocates Se no non vinci più Ehi Oh no lo è Cosa 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 Boh Certo anche la gente C'ha dei grossi problemi Grossi Giganti Sì se lo dia Sì se lo dia Cosa 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 Questa è la miglior sigla di Attack on Titan e non accetto opinioni contrarie. Me ne fai un cazzo della vostra stupida Sasage. O della vostra rambling da ex fan dei Rapsus. Juyuno Tsubasa è la sigla più bella di Attack on Titan. Controli anche carte fisiche? Qualcosa sì. L'unica carta di valore che ho è una serie limitatissima dei Transformers che ho Jetfire. Versione Shattered Glass Foil. Gradate 0. My War bella, sì. Anche My War. Molto bella. Ciao Enso. Lo vedete che è stato tutto il challenge? Bene, bene, bene. Dunque Juyuno Tsubasa per me è incredibile. È proprio una sigla. E Juyuno Tsubasa mi tira il cazzo per iniziare la puntata. Anche My War. Lo prendo a 5, oh. Il matto. Va a prendere. Au! Anfame! Au! Sì, ma gli attacco tre Ben Ripper, te ne andi conto, sì. Ok. Se ne ha reso con. No, non era multicombo di Crockets, era un altro multicombo. La gente sta facendo a gara a chi mette più merda dentro Abzan. Quindi è finito a OTE. Io lo impari col manga. Io Attack on Titan l'ho finito da... No, non l'ho nemmeno visto il finale dell'anime, sinceramente. Prima o poi me lo recupererò per curiosità. Però io ero in pari... Già sapevo. Ai suoi tempi. Oh, malefico o me l'ho detto è malefico? Jack Rouges. Ah, lo devo fare come youtuber. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono i nuovi thumbnail. Già che ci siete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Una percentuale di miei video è vista da persone non iscritte al canale. Diego, c'è un video che ti fa vedere come partire dalla versione non comuni e poi arrivare a quella con le rare che prendi come riferimento l'ultima. Comunque l'ordine ha fatti le terre. Prima mana base, poi tutto il resto. Dio sempre, prima la mana base, poi gli arcanist. Qua resto vi andassi. Qua resto vi andassi. Nooooooo Lasciamelo stare Aaaaaah Dio Questa bastarda Aaaaaah Explosi con calma bro male ma direzione urmaga è sostituibile? sì un altro Peter Needle ciao Tony ogni volta che o Sasha non lo so uno dei due o c'è o entrambi ogni volta che faccio un salto qui mi torna a voglia di riprendere già run magic ormai sono a livello troppo pro mi viene a partire tra i video di youtube sì sei shashi brava allora a partire video di youtube ma ti assicuro che ci metti poco poi è gratis quindi mi è stato landfall sia ci sta da due giorni puoi cambiare nome ah ok perché avete fatto i canali scissi cosa metti sono shashi what il sito per iniziare a giocare si intende come scaricare il gioco o mtg arena cerchi mtg arena e lo scarichi eh gliel'ha data la kurz ma porca troia cioè che culo niente da ampi sfiera per battere che che culo mono g non esiste mono g in storia eh o perlomeno se lo trovi con 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 maghi lo distruggi no non posso vincere contro questa merda ho troppa side lo so leon cruces fa un po' poco muore da cut down potete fare noia che metti di side il snapcaster il mono caso e gli spell pierce questo è una grande mano si si mi ero dimenticato l'inserirlo ma in realtà uno c'è al posto di un revoker però vorrei trovare il modo di un'inserirni altri non puoi targettarlo se non hai creatura è vainripper ha vinto il pro tour di pioneer e lui era facile a me a me a nulla o no Il cazzo di cartella Madonna è fable Mi mancava giocare il fable There is the moment we needed most Ercruziani Non me lo scarto il Van Ripper Mammaa sento Giocavo spiriti bianco blu Si può giocare ancora ti dico Bisogna del ripasso Quando ti pare Già che mi dice giocavi uv spiriti Vuol dire che giocavi E' un mazzo ancora abbastanza giocato No Forse si gioca No Bunt Mi sa spiriti E' bunt Vabbè ci vuole un secondo A giornarlo comunque Se giocava spiriti Bianco blu A entrare nell'ottica Della Colletted Company Ci vuole un attimo Il mazzo è lo stesso Poi il fatto E lo fai dopo fable Van Ripper E lo sdoppi Mamma mia Poi muore Sono quattro danni E' una roba fuori di testa E' a tarde Ah in risposta addirittura Potevo fare il doppio Patapim e patapam Patapim e patapam Mi innamoro E scappo con lui Cosa? Mi innamoro E scappo con lui Arrivederci Capitano Addio Dexter Affacciatevi alla finestra Amore Emi Un minuto Un minuto Vero And a bad day Va a giocare a Pog A volte ti frega la curva Però è effettivamente Troppo buona Metterla Per non giocarla Uno per Dai È gratis Se ti fotte la curva Una volta È successos E invece Invece no Guarda Eh Pucci è forte Ripper No pesco Pesco Faccio le liana Vabbè le carte Ora non tutte Al day one Vengono capite Basta vedere Le nostre review Ragazzi Mafia la giochi La strappi Di scioltere Da detta Oh no Eh il Nadeki Sta uccidendo Magic La gente non pensa più Sì Madonna Che bello Oh me ne frega Qualcosa Bevole è troppo lenta Sì 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 ma ormai È il meme Di Mafia Shieldred In realtà In realtà La lunga Ho sbagliato più io Sono la più La più grossa Cantonata Ho preso È stata Winota Winota È stata la più Grossa Cantonata Assoluta E alla fine Atraxa Avevo detto E Fable Atraxa avevo detto Oh Se la citti Grazie al cazzo È fortissima Io pensavo Ad Atraxa Come carta da sé E poi alla fine Invece anche Carta da sé È stata fortissima Sì la puoi giocare Dalla mano Atraxa Tranquillamente Senza problemi Ma in realtà È no Manu Perché Press My Command È stata una bolla Di un secondo Che ha visto Pochissimo Gioco Madonna bloodgast Quanto cazzo La carri Dai lavori Vado ai lavori No no Voglio la terra Io Assurdo Voglio la terra Vado ai lavori Il bloodgast È più forte Della storia Te lo giuro Taxi più picuro E niente bro Andata Andata C'è di Come dice Quello della regina Gli scacchi Renditi conto Quanto hai perso Te ne vai con dignità Vabbè Allora si merita Ok Sono lì Stavo per fare Il power bomb Drastic Pleasures Ma anch'io In draft Ce l'ho fatto Taxi epicuro Ragazzi È una carta Pensata Per scombare Con delle cose In limited Intanto a 4 Ci siamo Sta comportando bene Il vampiro Eddis A ruggire Oh 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 Don't see The up And I'm out Of Where Girl Tonight You look So pretty Chopper Puzz Chopper Puzz Lo senti Come Puzz Laider Delilah, c'ho le cose delle cose, con le mie bellissime cose, ho bisogno delle cose dentro me. Se non sento cose dentro me, son dentro me. Crucials dice che non ci sta? 7-0 con Rakdos Vampiri? Ruggi, allora. C'è lo score a schermo, quindi si vede. Aspetta, forse devo fare così. E ci siamo. E poi nel link di Untapped, premibile nel mazzo, si vede che c'è Crucials 4x. Dave Gorski. Eh, questa è l'arte, dicevo. Lei è stata usata come modella reale da un artista di Magic. E oddio, sta mano. Ok. 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 4-4-1 con il totto di burn Grande Grande cazzo C'è il guadagnone Cosa? Mi sembrava la Surveying Land Oh Gesù Santo Oh Giuseppe Oh l'asinello Oh la sorella Di Giuseppe Quel budello No, non è vero, poverino Non sa niente Eh no, se Me lo dovevo togliere Non ce l'ha nato l'ordine Vaffanculo Non ce l'ha nato l'ordine In storie Buongiorno That's alright Because I love to me Oh yeah Javachicchio Javachicchio Oddio 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 Merda Il monocalitas Lo sapevo Eh vabbè Indra Bello Bello Tutto a posto Lei Abbiamo fatto 7-0 Col Maghi Però sto cercando Di fare un'altra cosa Il font di Magic Si chiama Belerin Lo trovi ovunque Mi Quattro E E' già contato monogreen Solo io l'ho distrug... Ah no, con questo mazzo non l'ho trovato Con maghi lo distruggo Con maghi lo sbriciolo Sì, Gates, monogreen Ma è che appena vede Maysend ha vinto No, ne ha 8 Deve avere 10, vero? Deve avere 10, vero? Per chiudere di Maysend Beh, non è difficile da fare col primevo Però se pesco la terra ho vinto Per chiudere di Maysend ha vinto Ma non ha Maysend? Perché non l'ha preso? Merda Ah Ah Ahhhh Ok Cosa? Cosa? Io risolvo il problema all'inizio Tanto che in sapere si fa uno per uno se gioco bene Ho fatto la pescatina Ollevalo Schitto attaccato Chat spam Ollevalo Esplora Bravo Sì io provo molto più stima Per cancelli Che per G-Sky Control Ovviamente Ma che collapso comunque nel caso trovo Mono G Spacca sia Chiora che Che Utopia Sprawl Non mi sento marcio Conto Mono G Con Vado Con Swater Games Gli Levi Karn Il resto gli spacchini Gli Elfi Eh non stai malissimo Poi non ha rispondito Mono G non ha removal Quindi Venn Ripper Te lo guarda Te lo guarda e fa Ah Ok Bene Pinta Flossi Flossi Io nel dubbio ogni tanto Un guardino al telegrammo Lo faccio Io nel dubbio ogni tanto E ninocCHO Oh I Non Sì Me ец Che il telegrammo Perché mi si è buggato Non capisco come risolve questa cosa Mi sta facendo impazzire A voi sta andando bene Il telegrammo in questi giorni Capisco Non mi arrivano le notifiche Mi si aggiornano le notifiche solo quando lo apro Se lo apro Fa drrrr E si aggiornano tutte le conversazioni Se non lo apro non vedo le notifiche Riavvia il cellulare È vero Lo spegni e riaccendi Io non spengo il telefono da sei mesi e mezzo Ogni tanto andrebbe fatto Lo lascio un po' spento Sì facciamolo cara Facciamolo riposare No io una vita ho disattivato le notifiche da pc Sennò fa Non è proprio il massimo del godendo Sì Lei lo spiego Orang Non esiste Slutter games Cos'è il ciclo dell'alimentazione? Spegnere e riaccendere It's bloody It's bloody, wow Boh Fake, prova a scrivermi su Telegram Nella conversazione privata E taggandomi Ok Ok, aspetta Rifallo Ora che ho bloccato il telefono Se proprio mi arriva la notifica push Oh E ora la vedo da fuori Ma non mi arriva il messaggino Il tr Sì no ma li ho aperti Boh Poi risolverò un qualche modo Sì no ma Non c'è È È Provo a cambiare le impostazioni da PC Ecco tipo non mi è arrivato il tuo messaggio Ok provo dopo questo game Grazie Cosa? Non me l'aspettavo per quello Luisa aspettava per di Needle Aspettava per di Needle O la buttavo dentro semplicemente Perché gli piglia bene E niente questo ogni tempo si muore Fa un altro paio di cancelli E' la legge dell'antimeta Fai l'antimeta Batti il meta Arriva l'anti-antimeta Batte l'antimeta Cheat Questa va scritta tutta e tatuata sul petto Beh massimo No Ti dico massimo rispetto invece Sono contento Che la run Di questo vampiri Si interrompa così Bello Che vuol dire che un mazzo E può fare sette tranquillamente Tranquillamente Beh Gates È incredibile Grazie Grazie a tutti.